Riparto da Ilenia Lucaselli, prima dicevamo a proposito di quello che si è fatto o non si è fatto nella sanità pubblica. Devo prima di sentire la sua risposta a Lucaselli farle i complimenti da parte di Claudio Borghi, della Lega, che mi ha scritto scrivendomi di dire che le fa i complimenti per il quadro, perché è un grande esperto di arte contemporanea a Borghi, per il quadro che lei ha alle spalle e che dovrebbe essere di Tino Stefanoni, che è un grande artista lecchese. Ecco, lei conferma, ha fatto questa cosa un po' da varietà del sabato sera, però tanto le dovevo. Lucaselli? Sì, Claudio è sempre imprevedibile. Allora, innanzitutto va bene.